Sindaco, le piaghe d'Egitto le ha fatte quasi tutte, però quelle erano punizioni per il Faraone. Lei ha qualche peccato da scontare, forse? No, io non credo. Poi voglio dire che il sindaco è responsabile di tutto quello che accade sul territorio. Meglio lo è, ma bisogna capire le cause, perché poi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Dobbiamo pensare che probabilmente il nostro sistema di rete e di energia elettrica è un po' vetusto, ha bisogno forse di essere di un po' di manutenzione, di essere ringiovanito. La stessa cosa vale per l'acqua, per le condotte della Ruzzoreti? Sicuramente lo stesso discorso vale per le condotte della Ruzzoreti, che sono condotte anche queste un po' datate, sui quali bisognerà fare degli investimenti. Il presidente del Ruzzo stamattina diceva che ne parlerà con i sindaci, però dobbiamo capire che il Comune di Teramo deve avere da Ruzzo circa 4 milioni di euro. Allora diventa difficile capire come il Comune di Teramo possa contribuire a far fare investimenti a Ruzzo quando da Ruzzo deve avere 4 milioni di euro. Sul discorso delle strade e sul discorso delle mutazioni sicuramente è un problema, perché probabilmente molti alberi sono caduti anche per questo, però capisce bene che noi non abbiamo il pozzo di San Patrizio, i soldi sono quelli che sono, le risorse sono quelle che sono. Oggi lei ha chiuso le scuole a Teramo per questioni igienico-sanitarie, perché la mancanza di acqua ovviamente creava delle problematiche. Qualcuno ha chiesto, ma agli uffici non ci sono anche lì problemi igienico-sanitari? Però la concentrazione di ragazzi nelle scuole è molto più alta che negli uffici, perché insomma soltanto una scuola ha mille ragazzi, alcune scuole hanno mille studenti, il Comune di Teramo ha 300 dipendenti, quindi insomma la situazione si può gestire in maniera diversa. E' chiaro che nel caso in cui ci siamo posti anche questo problema, e nel caso in cui l'emergenza acqua fosse continuata anche nella giornata di oggi, si poneva anche il problema degli uffici, ma si poneva anche il problema delle case, voglio dire, si poneva un problema in generale. E' chiaro che poi oggi l'acqua dovrebbe tornare, già sta tornando, e nella giornata di oggi diciamo dovrebbe ritornare tutto al regime, quindi meno male che insomma questa emergenza finisce così come credo oggi finisca l'emergenza energie elettriche, perché perlomeno così ieri sera mi è stato comunicato dall'Enel, Grazie. Grazie.